I dipendenti del Comune di Santa Caterina-Villarmosa hanno proclamato lo stato di agitazione, informando anche la competente Commissione Nazionale di Garanzia. I lavoratori, come si evince dalla nota, lamentano la carenza strutturale di personale inorganico, la mancata copertura dei posti per le posizioni organizzative, ma anche la mancata attuazione delle progressioni orizzontali e verticali e, infine, la mancata liquidazione delle indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di settore, tra le quali quella dei buoni pasto. Secondo i sindacati, più volte inoltre si è chiesta la possibilità di un dialogo. E ancora, nell'Assemblea dell'11 ottobre hanno anche reclamato l'aumento in favore dei dipendenti comunali, contrattualizzati part-time, nonché alla mancata programmazione dell'attività formativa e di aggiornamento per il personale avente diritto. Nel corso della stessa Assemblea, conclude il comunicato, è stato sottolineato il mancato insediamento, dopo un lungo lasso di tempo dalla elezione dei suoi componenti, della RSU sindacale comunale. Intanto è arrivata la replica del sindaco Giuseppe Polito, che ha espresso l'intenzione di convocare le categorie sindacali per andare incontro a quelle che sono le richieste dei lavoratori. Il nostro desiderio, dice il primo cittadino ai nostri microfoni, è aderire a tutti i diritti che loro rivendicano. Il problema è la tempistica, ma da parte dell'amministrazione comunale conclude, c'è la totale disponibilità.